Amore, vieni. Che è? Come che è? Un frullatore, è un telecomando, non lo vedi? Con questo telecomando puoi avviare un bellissimo vibratore che mi sono appena regalata. E dove? Come dov'è? Scusa, un vibratore di solito dove sta? Bravo, scendi, cerca, acqua, fuoco, 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 aaaaaaah! Eaaaaaah! Attiva, 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 che merda! Piano, ho detto piano, piano, guarda che c'ha 5 velocità, poi si blocca, poi si blocca, poi si blocca, poi si blocca, l'italiana inizia oggi il tuo regolare. Amore? Amore, non mi fai preoccupare? Amore, che ti succede? Amore, che c'hai? Dove? Aspetta che te la tolgo Ci sto provando È difficile Non ci riesco Pallone all'interno per Podoski, narra di rigore Puffo Certo che è la roba cinese Questo funziona Grazie